buongiorno buonasera buonanotte allora oggi vi spiegherò una cosa stupenda meravigliosa allora dovete ascoltarmi bene perché oggi vi spiegherò come per chi non ha la barba e se la vuole far crescere si vuole a una peluria alla famosissima peluria vuole farsi crescere la barba è fondamentale a prestare una determinata attenzione sul discorso della pulizia del viso perché aiuta molto e aiuta parecchio anzi non molto nella crescita della barba quindi l'errore che fanno tutti è quello di avere il malo pelo schifoso putrido sozzoso e puzzolente e lasciarselo crescere in maniera rigogliosa quindi e questo è il primo errore per esempio perché fra tutti gli errori questo è uno di quelli l'errore quando si vuole fare crescere la barba è principalmente uno che è quello di lasciarsi il malo pelo la peluria la famosa peluria morbida che si può vedere nel viso e lasciare il viso così com'è lasciare fare tutta la natura sbagliatissimo quindi il metodo per farsi crescere la barba volta c'è se prestate certe attenzioni migliorate la vostra condizione pur calcolando che il discorso barba dipende molto ma molto dal fattore genetico quindi se poi di genetica non avete una quantità sufficiente di pulbi piliferi di conseguenza il vostro viso risulterà glabro e quindi senza nessun tipo di pelo e manco la parvenza quindi manco l'ombra del pelo nel viso vedrete che significa questo significa che se voi dopo innanzitutto quando vi volete iniziare a far crescere la barba dovete capire che genetica di barba avete questo come lo capite lo capite tenendovi la barba senza farci facendovi crescere la barba per un mese all'incirco un mese ci vuole per capire che tipo di barba ci avete una volta che voi per un mese mi fate crescere la barba e una volta capite la condizione che avete la condizione che volete raggiungere dovete capire passare al secondo livello quindi capire dove avete i pulbi piliferi dove non ce li avete il punto dove non ce li avete che sarebbe il punto dove voi avete i buchi o dove avete le parti antiestetiche diciamo così nella barba che vi renderà in forta la barba sono quelle che vanno curate maggiormente come con prodotti particolari è semplice prestare molta attenzione a delle situazioni come per esempio adesso vi dirò in particolare quali sono le le cose che bisogna fare per poter migliorare la vostra condizione quindi le cose che vanno evitate le cose che vanno fatte per esempio quando si vuole fare crescere la barba è fondamentale che voi per un mese vi fate crescere appunto la barba capire la lunghezza il tipo di barba che avete da lì poi potete lavorarci su